benvenuti mentonatica e il tuo spettatore a questo nuovo video sulla nuova multiservicraft in questo come avrete sicuramente capito e visto c'è anche jack04 e in questa sarà multiservicraft 2.0 perchè la la 1.0 oltre a queste belle cose bagate molto carine scusate ti metti davanti però poi si tiene tutto il cibo per sé e senti non ce n'hai qua questa sarà una multiservicraft 2.0 perchè non avendo cambiato modo di essere insieme su un server ehm non siamo riusciti a caricare l'altra mappa e quindi jack ha deciso di fare una nuova si anche se sarà lato al mondo anche se volevo anche se volevo continuare a giocare con l'altra perchè altrimenti piaceva un sacco con tutto il coso dei pistoni si però ormai abbiamo deciso così e iniziamo questa nuova serie se vedete la nostra voce il tono di voce è un po' basso perchè sono le 22 precise e quindi non possiamo urlare no decisamente no quindi jack io vorrei alzare il mio tono di voce perchè già non si sente bene già si sente basso il mio tono di voce devo sempre alzarlo no allora io prendo un bel po' perchè tu desiderate sapere che jack mi sente alto in realtà però io sento io mi sento basso lui è blando cioè non allora comunque io sto già raccontendo pietra aspetta che a farti gli attrezzi perchè li faccio io beh ormai li ho fatti io prendo la pietra tu prendi carbone allora la casa la faremo qui si cioè per l'iniziale magari poi si poi faremo una più grande fuori però per adesso visto che si no più che altro volevo è incovingiato volevo cambiare lo stile no perchè sai l'altra casa l'abbiamo fatta nascosta sottoterra si in realtà questo volendo un po' cambiare anche se le case sottoterra hanno sempre più stile devo dire perchè le case esterne io non saprei come talpe approvano che talpe approvano aspetta la cosa che non abbiamo sono le pecore teguri hai fatto la il forno no faccio il solito fatto spostati un attimo che si metto qua ne facciamo due così se c'è bisogno si allora ne ho fatto un risparmio in ferro e un piccola no adesso vado a cercare la le pecore anzi non vado a cercare le pecore perchè sta diventando notte quindi copriamo visto che ho mi sa che adesso sopprechiamo le cose visto che è appena incominciato mi sa che andremo a oggi e di tutto a cercare di di fare una casa non abbiamo cibo visto che non abbiamo cibo no non abbiamo cibo è vero mamma mia io intanto iniziere a coprire un po' questa non coprire l'acqua no? non abbiamo ferro non possiamo fare le fonti di acqua infinita l'acqua mi serve per fare dell'acqua per il grano cioè per il grano ok che ho preso un po' di semi perchè siamo da questo server da due minuti si jack ho già trovato una grotta ecco beh intanto vedrete non l'abbiamo detto però vedremo la 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 mia cioè vedrete la visuale di jack non la mia la mia l'avete già in terraria esatto c'è la lava sotto occhio occhio buona no e che pizza ho messo la cosa della pvp ho dei blocchi ho dei blocchi ho da coprirla magari allora o magari anche noi voglio fare la visto che c'è già già della terra abbastanza messa in evidenza aspetto voglio fare tipo una scaletta ok faccio una bella zappa ho fatto la scaletta di legno ok non c'è cosa sto rischiando la vita tipo un pochino ok ok questo è importante che non mi vada ok ci siamo ah no niente finisce qui quindi qui tecnicamente potremmo fare la nostra ma in zona di scavi oh che pizza io non ho ancora capito perchè alcune alcune piante non si possono mettere dove vogliamo eh perchè 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 sono brutta persona no 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 questo comunica con fuori gecko uffa eh non posso aprire perchè c'è l'acqua non qua lo posso aprire e che pizza gecko ma questa è una caverna unica faccia vabbè ritorno su basta cerchiamo di non morire sul dottor cerchiamo di morire sul dottor fericino cosa ceco aspetta qua ti va bene qua faccio il grano che ribelle sono ribelle aspetta sono ribelle aspetta eh ok che ci piace tanto ricoperto si è assicurati andiamo cremo assicurati e vaccinati quindi la maggiore lasciate tanto che bel pollice per il ritorno della tutta che se riusciamo a beccare anche titan faremo anche con il cliente però stasera un'altra caverna ma ho morto ah comunque qua indovina cosa sto prendendo il ferro è gigantesca sta colerno c'è il ferro, c'è il ferro hai il piccone di pietra, si che c'è aspetta, comunica con l'altra già arrivi, arrivi mi si rischia di andare nella lava metti metti un po' di torce ah io mi sto già distruggendo la dove sei qua si sei lei hai del cibo vero no se tu ho detto che non abbiamo cibo, l'unico cibo è il grano che non sta crescendo secondo te abbiamo cibo poi ancora notte aspetta che sto con la registrazione della voce così me la salvo subito si ragazzi perchè Dzeko deve registrare la sua voce perchè sennò non ho riuscito a sentirlo dai ma non c'è nessun animale io sono fuori e neanche una mela per una mela devo rompere le foglie no? sono fuori di notte e uno è andato ti ha salvato? si 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 se poi ricomincia subito e ricordati si si incomincia sotto già scavano allora le mele non spawnano bene tre cosciotti e tre cuori hai tre cuori ai 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 e devo trovare del cibo più presto perchè sono qua veramente messi male ai ci sono degli scheretti fuori non c'è niente ecco quando ci servono non ci sono ma eccomi si pure si pure rotto il piccolo dai così ero moscelli aspetta ma basta le cose qua ti danno no 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 poi siamo sponati il dio ma inizio all'inizio abbiamo dovuto spostarci perchè il lo spawn iniziale è un'isola in mezzo al mare c'è uno zombie che è perfetto no mamma mia ho messo normal come difficoltà ragazzi ok stanno arrivando gli zombie che questo tipo di pochettino e dove sono un po' di carne in marcia sempre bene questo non me la raccolta ecco andiamo andiamo più chiare lo zombie con la spada che non ho non è una spada non è una spada non te la sei fanno per andare a farmi non ancora ok so non so facciamo bastoncino qui pietra tento strassi vado a uscire mostre detto anche in italiano per il cielo inizia la lotta ho anche tempo di decidere oppure di andare al bowling e vincere eh già io sono andato al bowling devo dirlo e una volta è difficile dove stai andando sull'altra parte ok ok mostrano eh io uno ce n'era cioè dell'altro c'era appena uscivi c'erano 50 zombie 30 scheletri e a volte totcrivano un ragno ci do un ragno ci può far fare il letto con tante però cose di ragno che non mi ha dato molto male oh ci sono gli scheletri molto male io però a me serve un un zombie perché io sto morendo di fame ho due cosciotti ferro ho trovato ferro sono intanto una caverna ho trovato un bel po' di farla dove eravamo già noi no quello di lei preso tra l'altro non so se ci fuori non si è rotta la spada mannaggia ma però anche se questo è il brutto di essere divisi ok sta sta sorgendo il giorno adesso qualcuno dovrebbe arrivare che dicesi anche sta diventando sta diventando oh ma nella caverna nessuno ma la meraviglia nessuno perché che brutto come io ma no peggiorno non poteva essere vediamo se questa serie hai tante hai tante carne io ho ho un due cosciotti e mezzo no 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 di carne di zombie eh non ne ho più una io uno io uno ne avevo trovato eh anch'io ne ho trovato uno oh ma di fogli niente di cosa niente proprio no 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 dire c'è lì c'è lo zombie piccolo adesso arrivano gli zombie zombie che bruciano crippo no 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 non posso correre non posso correre c'è lo zombie piccolo devo beccarlo sto morendo di fuoco una carota è troppo la carota sto morendo però sto morendo sono in alcun ender manger i semi non sto morendo sto morendo mezzo cuore mandati la carota gecko non posso correre non sto morendo di fame un cosciotto in me cioè sono morto cioè in teoria o solo mezzo cuore acme dai datemi una mela date nanti dai ma non c'è niente proprio uh parkour ho anche fatto una cesta no ma dai ma anch'io che mi spacco le gambe però faccio una cosa fuori e ma fuori così congela forse bisogna mettere un torcio per mezzo ho un mezzo cosciotto re nutrition io zero cosciotti invertito fuori riccoglip riccoglip reccoglip quindi ma far crescere questa carota chiusa non è vero assolutamente in un punto la carota è quel mezzo e questo qua dove sono io sopra adesso hai ancora la zappa ah è la fame penso si è la fame già costo per morire ti lascio tutto qua getto no no perché so ho mezzo cuore niente di infame aspetta però così se muoio non muori di fame si che muoio no io sono a mezzo cuore da due ore e non sto morendo tegetto tutto così sembra come se ci fossero domani mi dai il piccone almeno così un po' di più anche questo è bene anche se con il fiore sull'esplorazione faccio il mare ghiacciato sono i mob che bruciano quindi potrei riuscire per armi c'è una zucca la zucca si può mangiare la zucca c'è una zucca ho visto una zucca ho preso una zucca carne marcia si 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 ok 2 di carne marcia mai stati così felici per di di avere carne marcia ok altro mondo salvato non mi piace un po' e sto andando proprio tanto lontano tanto poi ragazzi e poteri anche gecko possiamo salvarci ma solo in caso di emergenza ragazzi ci stiamo divisi come vedete solo me lo sai che porti in teoria melonia zucca zucca forse che potremmo farci golem di neve si ma cosa mi sta a difenderci le nuove la notte io sto per attaccare uno uno scherzo se un ragno ma no dai non c'è niente veramente sono in una pianura desolatissima ok l'ho ucciso sono in una pianura triste e desolata vabbè non è che dall'altra parte sia meglio con mezzo cuore e mezzo cosciotto con mezzo con mezzo con mezzo con mezzo e mezzo cuore con mezzo cuore con mezzo cuore una pecora aspetta pecore pecore maiali lucido eh quante pecore sono tre pecore tre pecore allora che coordinate sei allora aspetta vabbè tipo tia no vabbè dimmi coordinate aspetta effettare coordinate coordinate meno quattrocento quarantasette sessantaquattro cinquecento 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 cinque meno ah c'è anche un cane ho trovato un nuovo ho trovato un altro bioma no mi stanno uccidendo le pecore cani no no neanche l'osso uffa ho la carne gecko la carne ho 5 di carne e 3 di lei e 3 di cosa lana ho anche ho anche i cani ci sono i lupi gecko se hai delle ossa eh no non ho visto scherzi ma comunque ho trovato un nuovo biome si si ancora peggio di quello prima quello dove ci sono gli alberi di ghiaccio quindi un santo che il palo di meglio e meglio proprio sì ci sono anche tante altre riusciamo a farci letto per due gioco sei di lana sei di lana un letto per due ne ho quattro ne ho cinque allora ragazzi io direi di fare un taglio e di rivederci ritornati a casa ok ragazzi ok ragazzi come ho detto ho fatto i letti sono questi due qui e adesso gecko ci farà una piccola zona ho trovato anche della carne ok aspetta vedrà un po' sto blocco qua mentre io sono morto una volta il gioco è morto una volta ok di mettere no perché questo è il comodino è il comodino sono separati i letti sono singoli spostati 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 ok dormiamo 3,2,1 fammi dormire si trovate tante cose scritte bello oh abbiamo dormito allegria adesso mettiamo un po' a cuocere la carne così ci ristoriamo la vita ci spero allora ho trovato delle zucche mentre il server salva il mondo tutti che si preoccupano ah per il mondo hai zappa qua? ok metto la zucca anzi no devo mettere i 6 di zucca però eh ma dai vai ok messi messi anche qua però mi serve magari messi eh mi serve un altro scusami sbagliato ok trovati due di terra così possiamo eh vabbè però allora vai a prenderti la carne che c'è io la ho già presa ah che buona la carne ah che buona la carne non prendetela tutta però ecco se l'ho tanto il piccolo molto bene bel rumore tu pam io me ne prendo ancora una qui il resto no me l'hai preso tu dai uffa te io aspetto a mangiare io spietto e spietto zecco chi ha la squadra in mano? anch'io sembro Jack lo squartatore che burla allora si tim tim va bene va bene tim 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 allora vado a piantare questi alberelli e poi concludiamo questo episodio che è ben già fatto vedere molto aspetta che io ho delle caniere a zucchero e piantale lì fuori piantale? la sto piantando ok però facciamo però va bene ragazzi concludiamo qui questo primo episodio della multisolvecraft 2.0 spero che vi sia piaciuto se è così stato lasciate un bel mi piace per il ritorno e un commento con magari cose nuove da farci fare intanto noi per adesso penso che abbelliremo un po' questa zona perché fa veramente un po' schifo vero Jacko? e brulla e blanda quindi e brulla un saluto da Jack04 e da Jack46 ciao e noi ci vediamo in un prossimo video e anche in un prossimo episodio ciao a tutti ragazzi ciao